Domenica 3 dicembre 2017, bentornati. Questo è il podcast di parlarealmicrofono.it dedicato all'arte del public speaking. Io sono Patrick Facciolo, speaker, radio televisivo, giornalista, formatore e da un po' di mesi attraverso questo podcast vi sto raccontando un po' di cose che riguardano il mondo del public speaking, l'arte di parlare in pubblico. episodio per episodio affrontiamo delle puntate diverse anche grazie a voi, anche grazie alle domande che mi fate via email all'indirizzo podcast chiocciolaparlarealmicrofono.it. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare tutte le persone che il 25 ottobre scorso sono state al Festival del Linguaggio che è l'evento gratuito di parlarealmicrofono.it dedicato proprio all'arte di parlare in pubblico. eravate in molti, c'è stata una presenza molto bella, positiva, di persone sorridenti, eravamo a Fiera Milano City, contesto sempre bellissimo, tanti ospiti che sono intervenuti e che ringrazio anche da qui, anche da questo podcast e ovviamente come sempre vi terrò aggiornati poi sulla data della sesta edizione che si svolgerà prossimamente, sicuramente nel 2018 o all'inizio del 2019, adesso stiamo definendo ancora un po' le date ma il progetto ovviamente resta valido anche per l'edizione numero 6 e ci saranno un po' di novità importanti che vi racconterò nel corso del tempo. In questi mesi, in queste settimane in cui non ci siamo sentiti, mi sono arrivati ancora dei messaggi, mi sono arrivate ancora delle email, una di queste mi è arrivata da Daniele e forse gli appassionati di questo podcast si ricorderanno di Daniele che è un ascoltatore appassionato di questi temi e ha scritto di nuovo e mi ha scritto prima del festival del linguaggio, mi ha scritto in bocca al lupo per il festival di domani se è concesso vorrei chiederti di approfondire un altro aspetto che mi incuriosisce, come iniziare un intervento quando iniziamo a parlare in pubblico. Grazie mille Daniele. Io Daniele molto volentieri leggo la tua email e ti rispondo all'interno di questo podcast perché queste domande le trovo sempre molto pertinenti e credo possano aiutare tutte le persone che ci ascoltano a trovare delle risposte perché poi parlare in pubblico è un'esperienza del tutto personale dove ciascuno mette i contenuti che preferisce ma se troviamo degli spunti per facilitarci il lavoro, per semplificarci il lavoro di comunicatori beh questa è sicuramente un'occasione da non perdere. E allora io vorrei partire proprio da qua, vorrei partire da questa domanda che mi fai cioè come iniziare un intervento quando parliamo in pubblico e comincerei dal dire due cose importanti che sia l'inizio che la fine del nostro intervento in pubblico sono probabilmente tra le parti più importanti di tutto il discorso questa cosa tra l'altro è stata anche studiata, va sotto il nome rispettivamente di Effetto Primacy e di Effetto Recency per chi volesse approfondire che cosa significhino questi due effetti basta che lo digitiate all'interno di parlarealmicrofono.it ci sono due post proprio dedicati a questo tema quindi basta scrivere Effetto Primacy con la Y ed Effetto Recency scritto Recency sempre con la Y finale e all'interno trovate appunto la spiegazione un po' tecnica di che cosa significhino questi due effetti. Io vi sintetizzo davvero tutto e sinteticamente posso dirvi che sia l'Effetto Primacy che l'Effetto Recency ci raccontano che le prime e le ultime parti di un discorso sono quelle che gli ascoltatori ricordano di più per motivi diversi. I motivi diversi poi li trovate sul blog e anche su uno dei miei libri che è Crea Immagini con le parole dove ho trattato anche questo tema e ho riproposto appunto le cose che trovate direttamente sul blog. Ecco e dato che è stato studiato che la prima e l'ultima parte di un intervento in pubblico sono delle parti molto importanti credo che sia fondamentale capire che cosa dire, che cosa inserire all'interno di quelle parti. La prima e l'ultima quindi come aprire e come chiudere visto che la domanda di Daniele è su come aprire un intervento in pubblico, sgombriamo il campo dal come chiudere un intervento in pubblico. Una delle modalità possibili ve l'ho già raccontata in altre puntate del podcast in altri episodi. Una delle modalità possibili che è molto frequentata e molto praticata per chiudere un discorso in pubblico è quello della call to action, della chiamata all'azione. Quindi io ti racconto tante cose durante il mio discorso in pubblico e alla fine ti lascio chiedendoti un'azione che può essere anche semplicemente se volete saperne di più andate sul mio sito internet che è questo. Se volete saperne di più c'è questo numero di telefono, ci trovate qui. Oppure commentate se vi è piaciuto questo speech, questo discorso in pubblico commentatelo sulla nostra pagina facebook e lascio magari una slide con il nome di questa pagina su cui poi le persone possono andare a commentare. La call to action veramente se pensate per esempio alla politica è uno degli strumenti più importanti. Qual è la call to action tipica del politico? Certe volte è sottintesa come call to action. È vota per me, è vota per il mio partito, è vota per un referendum, vota per un'istanza particolare. Insomma in generale la chiamata all'azione è spesso, molto spesso l'ultimo momento della nostra comunicazione in pubblico ed è una delle modalità possibili. Ce ne sono tante altre ma questa puntata è dedicata a come aprire un discorso in pubblico e non a come chiuderlo. Arriviamo però a come aprire un discorso in pubblico e torniamo quindi alla domanda di Daniele. Allora su tanti manuali di public speaking, magari tra di voi ci sono persone che ne hanno letti nella loro vita, si parla spesso di ice breaking, cioè di rottura del ghiaccio, quindi di un momento in cui il relatore rompe il ghiaccio con il pubblico e lo fa in modi diversi, in modi differenti. Di solito si dice che per rompere il ghiaccio si possano usare delle frasi ad effetto, dei passaggi che in qualche modo destino l'attenzione del pubblico, che magari era distratto fino a un attimo prima e improvvisamente è quello che torna con l'attenzione a noi perché abbiamo detto una cosa piuttosto forte, piuttosto diversa da quella che ci aspettavamo. Ecco, io definirei l'ice breaking in maniera un po' più generica come un momento in cui ci avviciniamo di più al nostro pubblico. Sapete che io amo parlare sempre di questa cosa dell'abbracciare il pubblico e per chi ha letto anche il mio ultimo libro che si chiama proprio parlare al microfono, che è tratto da questo podcast, questa cosa sicuramente è un po' nota e anche l'ice breaking secondo me può essere considerato uno di quei momenti utili per abbracciare il pubblico, se non per abbracciarlo idealmente, come dico spesso, per avvicinarci al pubblico in una situazione in cui magari non lo conosciamo ancora perché è la prima volta che stiamo parlando a quel pubblico e quindi il nostro ice breaking è il modo che usiamo per metterci un po' più vicini idealmente al pubblico che abbiamo davanti. E allora se la nostra esigenza è quella di avvicinarci a questo pubblico, questo ice breaking non deve essere per forza pieno di effetti speciali secondo me, ma basta che avvicini il pubblico con le parole. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un ice breaking in generale può essere anche semplicemente il fatto di raccontare il traffico che ho trovato per arrivare nella sede in cui si sta svolgendo il discorso. Quindi o non so voi ma io ho trovato tantissimo traffico oggi, anzi ci ho messo pure un quarto d'ora in più e quindi siamo riusciti ad arrivare comunque in orario per la nostra presentazione, ma ho fatto un po' più fatica del previsto. Quanti di voi hanno trovato traffico oggi? E per alzata di mano io sondo in questa maniera quante persone tra il pubblico hanno trovato traffico. O è sempre importante una cosa in tutto questo, che ci crediate davvero? Questo è fondamentale. Sapete che io cerco di parlare spesso di questo concetto dell'autenticità in comunicazione, tanto che abbiamo dedicato l'episodio numero 10 di questo podcast proprio al tema dell'autenticità e ci tengo anche che quando fate un ice breaking del genere davvero siate curiosi di sapere se qualcuno ha trovato traffico per strada, perché può essere un momento di condivisione importante, di condivisione interessante e di avvicinamento a quel pubblico. È un po' come una stretta di mano ideale, anch'io come te ho trovato traffico in mezzo alla strada. E quindi se sento che quella cosa ci tengo a saperla del mio pubblico, se mi va, se me la sento, gliela posso anche chiedere prima di cominciare. Può essere anche un'occasione per avvicinarmi al pubblico che ho davanti. In generale direi che questo modo di fare l'ice breaking è un modo off topic. Qualcuno di voi che segue il podcast da un po' di mesi ricorderà che cosa significa off topic. Significa fuori tema, quindi è un modo fuori tema per avvicinarmi al tema del mio discorso in pubblico. Quindi sto un po' fuori tema, sto un po' off topic e attraverso questa frase off topic, il traffico, che quindi non c'entra con il tema del mio discorso in pubblico, mi avvicino a quel pubblico. È un modo per salutare il pubblico che ho dall'altra parte. Per chi volesse approfondire questa cosa on topic, off topic, vi ricordo episodio numero uno del podcast, quello sulla gestione delle obiezioni. Ne ho parlato molto, oppure vi ricordo sempre il libro Parlare al microfono di quest'anno in cui ovviamente ne parlo, essendo tratto dal podcast. Torniamo però a questa proposta che vi ho fatto, quindi l'idea di parlare del traffico. Io ho detto il traffico ma può essere un elemento di quotidianità che in qualche modo mi può avvicinare al mio pubblico e che è vicino a quello che io sento in quel momento come utile per il mio discorso in pubblico. In generale, sempre parlando di questo icebreaking, di questa rottura del ghiaccio, mi viene da dire che uno strumento importante ancora una volta, come ho già detto tante volte, è descrivere il circostante, cioè la descrizione di quello che io ho intorno, perché effettivamente è quello che di comune c'è tra me e il mio pubblico. Quindi anche soltanto il fatto di descrivere, ho visto molte persone alla macchinetta del caffè, oggi è sabato mattina e ce n'è bisogno. Anche soltanto dire una frase di questo genere, se io la penso, se io la sento questa cosa, è un icebreaking. Non servono effetti speciali hollywoodiani per fare un icebreaking. Ci basta tante volte descrivere il circostante, ci basta tante volte descrivere che cosa ho intorno, ci basta tante volte semplicemente descrivere la realtà. Ricordate c'è un episodio del podcast, sta diventando una specie di ipertesto, una specie di rimando continuo questo episodio, c'è stato un episodio del podcast che si intitolava Crea immagini con le parole fatti capire da tutti. Che cos'è l'icebreaking se non l'ennesima occasione di creare immagini con le parole descrivendo il circostante, descrivendo qualcosa che mi sta intorno, descrivendo qualcosa che mi sta intorno e quindi stando off topic, stando fuori tema rispetto all'argomento che tratterò poco dopo. Quindi ecco il suggerimento che ci tengo a darvi oggi. Si tratta sempre di capire l'opportunità di quello che facciamo e si tratta sempre, secondo me, di orientare qualsiasi cosa che facciamo all'avvicinamento nei confronti del pubblico, perché è con il pubblico che avremo a che fare da lì alla fine della presentazione, non con gli effetti speciali hollywoodiani. Non credo che sia questo il public speaking, non credo che sia l'allontanamento da quello che davvero vogliamo portare su quel palco, non credo che sia l'allontanamento da quello che il pubblico vorrebbe sentirsi dire da quel palco. credo che nel public speaking ancora una volta ci sia una quota, ci debba essere una quota di autenticità e la possiamo esprimere anche attraverso questo momento importantissimo dell'apertura del nostro discorso. Ovviamente non vi sto dicendo che tutti i discorsi in pubblico debbano cominciare con il traffico o con la macchinetta del caffè. Sto cercando soltanto di farvi passare un messaggio importante, cioè che il topic, cioè il tema del nostro discorso in pubblico non è tutto, ma c'è anche il mio avvicinamento al pubblico. Poi ognuno troverà il suo modo personalissimo per avvicinarsi al pubblico attraverso le parole. Questo ci tengo davvero a farlo passare. Quindi descrivere la realtà è uno strumento importante che abbiamo a disposizione per rompere il ghiaccio. Il modo, il contenuto, l'aneddoto, l'esempio che vogliamo portare poi è una cosa che decidiamo noi direttamente. È qualcosa che decidiamo in prima persona in base a quello che sentiamo utile in base a quel contesto. È logico che se il contesto è la politica aprirò in un certo modo, se il contesto è un meeting aziendale aprirò in un altro modo. È tutto riferito al contesto. La cosa importante è non sottovalutare quello che ci sta intorno. Quindi per ricapitolare tutto, sperando di aver risposto bene a Daniele che mi ha scritto, che ci ha scritto, l'idea di aprire un discorso in pubblico è l'idea di avvicinarci al nostro pubblico. Non dobbiamo stare per forza off topic. Può essere anche un ice breaking on topic, quindi legato al tema di cui ci occupiamo. Non è una regola tassativa questa. Voglio dire soltanto che abituarci ogni tanto a stare off topic, abituarci a stare fuori tema ci può avvicinare di più al pubblico. Perché tante volte noi partiamo dal presupposto che il nostro discorso in pubblico debba essere e debba vivere soltanto legato ai contenuti specifici che vogliamo mettere in comune con le persone. È vero, è vero però soltanto in parte. È vero per la buona parte della nostra presentazione, ma non per tutta, perché la nostra presentazione tante volte ha bisogno di calore umano. E questo calore umano noi lo possiamo dare attraverso l'off topic, attraverso questo leggero fuoritema che però ci permette di stare più a contatto con le persone a cui stiamo parlando. Vi ricordo l'indirizzo email se volete commentare o proporre delle puntate a cui potete scrivere che è podcastchiocciolaparlarealmicrofono.it. Il sito ovviamente è parlarealmicrofono.it e all'interno trovate tantissime risorse sui temi del public speaking e della comunicazione. Trovate anche le puntate di questo podcast, trovate un sacco di materiali video, il blog, la possibilità di scaricare l'app gratuita, di parlare al microfono. Insomma siamo alle solite, vi racconterei all'infinito che cos'è questo portale. Me lo dico da solo ma ci tengo perché quello in cui credo davvero questo portale è meraviglioso che è parlarealmicrofono.it. Mi fa piacere se lo visitate e l'appuntamento è per il prossimo podcast e se non dovessimo sentirci prima auguro ovviamente a tutti voi delle ottime feste e ci sentiamo l'anno prossimo. Un abbraccio a tutti.